una nel marocco come tutto un popolo si è aggrappato per salvare ryan era tutto il popolo lì lavorando per salvare un bambino se l'ha messo tutto purtroppo non ce l'hanno fatta ma quel esempio oggi vedevo sul messaggero quelle fotografie di un popolo lì aspettando per salvare un bambino grazie a questo popolo per quella testimonianza